Musica Avvio a basso profilo, poi successo clamoroso, sognando un posto di lavoro. Il progetto formare che ha coinvolto la Tirrenia e 14 scuole superiori della Sardegna ha riscosso apprezzamento. Agli stage hanno partecipato 450 studenti, ospiti a bordo delle navi lungo la rota tra Cagliari, Porto Torres, Olbia, Arbatax e gli scali della penisola. Interessati gli istituti a indirizzo nautico, alberghiero, professionale e meccanico. Noi contiamo di dare sistematicità al progetto. Quest'anno è partito faticosamente, ma bene, ugualmente, nel senso che nel giro di due mesi abbiamo dovuto dare gambe al progetto, coordinando le varie scuole. Il prossimo anno speriamo di far tesoro dell'esperienza di quest'anno e perfezionare, anche se c'è qualcosa da perfezionare. Il feedback dei ragazzi, devo dire, e degli insegnanti accompagnatori, dei comandanti, per quanto abbiamo raccolto finora è stato positivo. L'iniziativa di formazione didattica è partita l'11 febbraio per concludersi a fine aprile. Il protocollo ha durata triennale, ma può essere rinnovato.